Sarà la piscina Francesco Scuderi di Via Azzurri a salutare domani alle 17 il debutto stagionale dell'equipo Orizzonte nella Serie 1 2019-2020. Parte per le Rosso Azzurre è una stagione intensa che le vedrà impegnate sul fronte nazionale a difendere il tricolore conquistato qualche mese fa. Responsabilità probanti ma spalle sempre più larghe per il gruppo guidato da Martina Miceli che dovrà fare a meno di culas, van der slot e bianconi, andate via in estate, ma che potrà contare sull'entusiasmo e la forza delle nuove arrivate le catanesi Beccasi e Meckelvi e le nazionali Via Cava ed Emmolo, oltre che sulla compattezza del gruppo confermato in Rosso Azzurro desideroso di aprire un ciclo il più lungo possibile di successi con la gloriosa calottina catanese. La prima di campionato in realtà non è già più un inedito in questo primissimo scorcio di stagione. Ospite di Aiello e compagni sarà la Calli Milano dell'ex Roberta Bianconi, già affrontata e battuta di misura una settimana fa in occasione del concentramento preliminare di Coppa Italia a Padova. Sarà un nuovo banco di prova per l'equipe Orizzonte che vuole cominciare a mandare i primi messaggi alle rivali Sissrom e plebiscito Padova su tutte per ribadire come per il tricolore sia necessario fare i conti con le campionesse in carica.